Buon Natale, siamo distanti, ma oggi vogliamo sentirci tutti vicino condividendo questo momento di augurio. Il mio augurio è che l'essenziale diventa visibile agli occhi e ringrazio, ringraziare voglio la comunità del liceo Severi per la sua professionalità, il lavoro ben fatto e tutti i ragazzi per l'impegno e i genitori per il grande lavoro che stanno svolgendo insieme a noi e formando così una comunità educante. Grazie, auguri. Buongiorno, sono qui a nome di tutti i genitori per fare gli auguri alla preside professoressa Elena Cavaliere che poi estenderà tutto al corpo docenti in quanto dopo hanno il collegio docente, quindi volevo anche ringraziarli per la dad che in questo periodo i nostri figli stanno facendo, quindi volevo veramente ringraziarli e fare gli auguri affinché l'anno prossimo possa ritornare tutto in presenza e se mi permettete ricordo quello che è stato fatto il 26 dicembre dell'anno scorso, quello che ha organizzato la preside. Spero che l'anno prossimo, anche se io, mia figlia finisce il quinto anno e quindi non sarò qui come presidente, auguro che si possa ripetere l'esperienza di quel bellissimo concerto che è stato fatto. Voglio estendere gli auguri anche a tutto il personale ATA, a tutti i ragazzi e in modo particolare a tutti i genitori che in questo periodo si stanno impegnando affinché tutto vada bene. Grazie. Buongiorno, anche da parte mia e dei genitori che rappresentiamo all'interno del Consiglio d'Istituto giungano gli auguri alla dirigente, alla professoressa Elena Cavaliere e all'intero corpo docenti per il lavoro che hanno fatto e che stanno facendo in un periodo difficilissimo. Stanno veramente portando avanti i programmi come se i nostri ragazzi fossero in presenza. L'augurio è quello ovviamente di buone feste e soprattutto di ritornare quanto prima ad una situazione diciamo di normalità. Grazie a tutti e buone feste e buona giornata. Auguri di buon Natale a tutti, che possa essere un Natale sereno nonostante le difficoltà che stiamo vivendo. Il mio augurio va a tutti i colleghi, il personale scolastico, ai genitori e soprattutto ai ragazzi che stanno affrontando un periodo difficile. Buon Natale, alla salute di tutti e spero di rivedervi presto a scuola. Ciao! Buona musica a tutti, dal nostro liceo musicale Francesco Severi di Castellammare di Stabbia, Angelo Ruggeri, tutti i nostri colleghi, tutti i docenti di strumento musicale vi augurano un felice e sereno Natale. Auguri, auguri, auguri! Auguro un felice Natale a tutti! Auguri, auguri, auguri! Tanta serenità! È stato un anno difficile, l'abbiamo trascorso insieme anche se a distanza e speriamo di ritrovarci tutti tutti quanti insieme e nel frattempo vi auguro di cuore un caloroso Natale e un 2001 come il vostro cuore desidera. Auguri a tutti voi! Tanti auguri! No, scusate, ripeto! Non ci faccio! Sono ritornato! Auguri di buon Natale e seremo anno nuovo! Ciao ciao! Allora, i miei più cari auguri alla Preside innanzitutto, che è l'anima, il cuore della nostra scuola, a tutti i colleghi, a tutti gli alunni di cui veramente si sente una grande mancanza. Auguro a tutti un Natale di serenità, di gioia, di pace, di amore, di felicità e spero che l'anno prossimo possiamo veramente abbracciarci dal vivo tutti insieme. Buon Natale! Augurissimi di buon Natale! Tanti auguri di buon Natale, anche se quest'anno è stato diverso, ci miglioriamo del meglio. Di nuovo tanti auguri e buon anno! Sono Gianni, il tecnico del Sereli, sono arrivato qui il primo anno, ho trovato una famiglia e mi sento di dare il buon Natale a tutti, un abbraccio forte e sicuramente cambierà e ritorneremo tutti alla grande. Buon Natale a tutti! Anche se sono nuova di questa scuola mi sento in famiglia. Buon anno a tutti! Allora, buongiorno a tutti, io vorrei dare gli auguri non solo ai nostri studenti e alle nostre studentesse. I miei auguri vanno moltissimo alle famiglie. Noi in questi mesi siamo entrati nelle loro case e qualche mamma ci straduttava con la manina, abbiamo disturbato qualche sorellina che stava dormendo, qualche nonno o nonna che viveva con gli studenti e siamo contenti di esservi venuti a trovare, scusateci se vi abbiamo dato fastidio e vi auguro a nome mio di tutti i colleghi e le colleghe un anno bellissimo e un Natale che sia un Natale di condivisione. È il mio ultimo anno al liceo, purtroppo. In questi anni, dal 1983, ho conosciuto tanti professori, tanti alunni, tanti presidi che sono passati. Mi dispiace moltissimo, purtroppo l'età avanza e ci dobbiamo avvenire. Auguro tanti auguri di buone feste a tutti. Grazie. Auguri, auguri a tutti. Buon Natale, buon anno. Buongiorno a tutti, cari colleghi, dal liceo vi mando tanti tanti auguri di un sereno Natale per tutti. Spero di poterci rivedere tutti in presenza. La scuola qui sembra a pezzi, è stupenda, è una scuola stupenda, ma ci manchiamo, ci manchiamo tutti. In questo momento vi abbraccio calorosamente tutti e vi auguro un sereno Natale e un buon anno nuovo e speriamo un buon 2021. Sappiate che ci mancate tanto. Chi oggi con me ha partecipato a questo momento di augurio ha rappresentato ognuno di voi e il vostro cuore era nel suo cuore. Con questo vi dico buon Natale e a presto rivederci. Grazie.